Ha ottenuto la messa alla prova la ragazza 17enne, all'epoca dei fatti, ora maggiorenne, coinvolta nell'aggressione a Davide Ferrerio. Il 21enne di Bologna ha brutalmente picchiato l'11 agosto a Crotone e ora ricoverato in coma irreversibile nel capoluogo emiliano. Lo ha deciso il GUP del Tribunale dei Minori di Catanzaro, Emanuela Folino, accogliendo la richiesta del difensore Aldo Truncè. Il GUP ha incaricato gli assistenti sociali di predisporre un piano idoneo al recupero che sarà discusso in udienza il prossimo 7 giugno. Il PM, il procuratore dei minorenni Maria Alessandra Roberto, si era opposta. Quella piccola finestra che chiedevo di aprire, ha detto l'avvocato Truncè, è stata aperta. La ragazza ha bisogno di un processo di aiuto e di adeguamento della sua capacità di comprendere quello che è successo. La richiesta di aiuto che le stesse ha sventolato in aula è stata recepita. Certo, non esprimiamo nessuna felicità. Qui nessuno vince e nessuno perde, ci tengo a ribadirlo. Abbiamo fatto quello che il codice prevede e chiesto, questa forma che garantisce forse la cosa migliore, un percorso per cercare di rivedere e rielaborare quello che finora è stato un percorso negativo e cominciare una vita con dei presupposti e valori diversi. Contrario alla scelta del GUP, l'avvocato Fabrizio Gallo, che insieme al collega Gabriele Bordoni assiste ai familiari di Davide. Siamo assolutamente scontenti, ha detto, così finisce tutti in un nulla di fatto. L'oggetto principale del pestaggio la passerà liscia. Non lo meritava perché una ragazza che non ha mai preso coscienza di quello che ha fatto, non ha mai chiesto scusa e crede di non aver fatto nulla. Questo non è giusto nel percorso rieducativo che deve fare un ragazzo ed è assolutamente negativo come immagine all'esterno. Il PM ha motivato l'opposizione sul fatto che la ragazza continua nel suo comportamento di mancata resipiscenza di quello che ha fatto. Le hanno trovato un telefonino in carcere, ragion per cui non ha assolutamente recepito la gravità della situazione. E il secondo episodio è avvenuto perché fece menare un suo ex quando aveva 14 anni col quale conviveva e adesso il pestaggio è arrivato quasi alla morte. Non è un bel giorno.